Si è conclusa un'attività ispettiva presso l'area industriale di Lamezia Terme, l'ex area SIR che ha visto operare sul campo i carabinieri, il personale Dipartimento Ambiente della Regione e dell'ARPACAL. L'attività è consistita nell'esecuzione di controlli sia analitici che documentali su alcuni siti presenti sull'area e in particolare sul depuratore di reflui urbani di Lamezia nel quale giungono i reflui di depurazione provenienti da quasi tutte le attività produttive di tipo industriale della zona. Per accertare l'effettiva funzionalità dei processi di depurazione e scongiurare la possibile emissione nelle acque marine di sostanze inquinanti, i tecnici hanno effettuato i prelievi per controllare la conformità dei parametri relativi alla qualità delle acque in uscita alla termine del processo di depurazione sia di quelle in entrata. Ciò per verificare l'eventuale emissione nel processo di depurazione, di sostanze che possano interferire con la funzionalità dell'impianto. L'attenzione dei tecnici e dell'arma dei carabinieri si è concentrata sul canalone che scorre a fianco dell'insediamento industriale, le cui acque giungono direttamente in mare, nel quale sono stati effettuati i prelievi in vari punti, allo scopo di verificare la presenza di inquinanti ambientali che, se presenti, potrebbero essere la causa di molte delle problematiche che si registrano specie d'estate sulla costa lametina. Le analisi che verranno eseguite dai laboratori bionaturalistico e chimico del Dipartimento Arpacal di Catanzaro comprenderanno la verifica sia dei parametri microbiologici che di quelli chimici.